Sin dal suo approdo su Netflix, la serie tv Genie & Georgia ha avuto un grande successo e i fan e gli utenti Netflix l'hanno premiata con un bel primo posto nelle serie più viste della settimana. Con una serie che incrocia la premessa di Una Mamma per Amica e quella di Did To Me, Amiche per la Morte, Genie & Georgia è la più recente tra le commedie originali targate Netflix ad atterrare sulla piattaforma. Ovviamente è già sulla bocca di tutti questa serie e la domanda più comune è ovviamente se avrà una seconda stagione. Se questa commedia dovesse essere rinnovata appunto il prossimo lotto di episodi probabilmente si baserà sulle ricadute della decisione di Genie che abbiamo visto nella prima stagione di scappare da sua madre, Georgia, con il suo fratellino Austin al seguito. A 15 anni Genie sta infatti seguendo il percorso che sua madre di 30 anni ha tracciato per lei. Fa esattamente quello che fa a sua madre, corre sempre, spiega Fisher, il creatore. La stagione di 10 episodi si concentra ugualmente sull'adattamento di Genie al liceo, in una ricca città del Massachusetts e sul tentativo di sua madre di tenere a galla la sua famiglia, usando metodi che sono tutt'altro che legali. Nel corso della stagione, scheletri usciranno dall'armadio di Georgia in rapida successione. In sostanza Genie può scappare da Georgia, ma Georgia non può scappare dal suo passato. Momentaneamente Netflix non ha dato una parola sul futuro di Genie e Georgia. Tuttavia il finale è sicuramente impostato e Genie e Georgia potrebbero avere altri episodi. Per esempio, la domanda che tutti ci sono posti è dove stanno andando Genie e Austin alla fine? Il passato criminale di Georgia uscirà prima o dopo il matrimonio con il sindaco Paul Randolph? All'inizio sembrava dovessimo fare una sola stagione, ma abbiamo appena iniziato a scoprire alcuni degli strati per tutti i personaggi, su tutta la linea in cui vogliamo immergerci. Deb e io speriamo di avere la possibilità di realizzare altre stagioni, dice la creatrice Sarah Lampert. Noi abbiamo già detto che Genie e Georgia non è stata al momento rinnovata, ma se dovesse essere rinnovata come è molto possibile, prevediamo che la seconda stagione sarà presentata in anteprima nel 2022. Ad esempio, Never Have I Ever, uno spettacolo Netflix ambientato all'Igeo prodotto da Mindy Kelling, ha avuto la stessa sorte. Nonostante le sfide della pandemia Covid-19, Netflix ha confermato che la sua seconda stagione sarà presentata in anteprima nel 2021, un anno dopo la sua uscita. E quindi probabilmente Genie e Georgia arriverà su Netflix nel 2022, un anno dopo la sua uscita.